Vicepresidente Pettinari, lei attraverso i social ha fatto una denuncia nelle ultime ore, ha parlato di minacce subite ieri nel corso del Consiglio regionale, minacce che sarebbero arrivate e lei che avrebbe ricostruito attraverso lo streaming il fuorionda del Consiglio regionale che lei stava presiedendo ieri. Sì, è una cosa gravissima, io sono amareggiato e veramente distrutto anche perché tutto mi sarei immaginato ma non di ricevere minacce all'interno dell'assiste regionale, sono minacce di percosse esplicite nei miei confronti, un consigliere nello specifico di centrodestra dice di volermi picchiare, menare e quindi percosse. Questa è una cosa gravissima, è un fuorionda ma è tracciato nello streaming del Consiglio regionale, la registrazione ufficiale del Consiglio regionale, sono rimasti i microfoni accesi e quindi alle mie spalle, mentre presiedevo, hanno colpito me come persona, perché comunque è una violenza inaudita, verbale nei confronti di un collega, minacce di percosse, ma anche me come istituzione, io ero presidente del Consiglio in quel momento, stavo presiedendo l'assiste, quindi io sono profondamente amareggiato, ricevere minacce, pensare di ricevere minacce anche dei propri colleghi in Consiglio regionale grave, io che cosa sto facendo in queste ore? Sto scrivendo una lettera al Presidente del Consiglio, perché l'autorità, chiedendo di convocare l'ufficio di presidenza e di mettere come primo punto all'ordine del giorno la trattazione di questo caso per gli adempimenti di conseguenza, perché l'ufficio di presidenza, poi cercherò di tutelare anche la mia immagine come ritengo opportuno.